Cari amiche e cari amici, l'Arcivescovo Viganò è tornato a scagliare i suoi darvi contro il Vaticano e l'operato malefico del compagno Bergoglio. Vi leggerò adesso la sua ultima lettera. Molto si è scritto in questi giorni circa l'ennesimo scandalo vaticano che vede questa volta coinvolto il Cardinal Becciu, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi. Dinanzi ad accuse che ancora devono essere provate, la risposta di Jorg Mario Bergoglio è parsa dettata da furore e non da amore di verità, più da un vaneggiamento di onnipotenza che da volontà di giustizia, in ogni caso da un grave abuso dispotico di autorità. E qui, cari amiche e cari amici, non le manda a dire a nessuno, come vedete il suo linguaggio è molto molto diretto, è uno dei pochissimi del resto che sta cercando di salvare la Chiesa in qualche modo. Continuo. Sotto questo profilo possiamo ormai ritenere che la privazione della Sacra Porpora e la riduzione allo stato laicale siano diventate esecuzioni sommarie, a fortissimo impatto mediatico, a favore dell'immagine di chi le sancisce, al di là delle responsabilità morali e penali dei condannati. Il signor McCarrick, accusato di crimini gravissimi, è stato condannato direttamente dal Papa senza che gli atti processuali e le testimonianze che lo riguardano venissero resi di pubblica ragione. Con queste scammotaggi Bergoglio ha voluto dare un'immagine di sé che tuttavia contrasta con la realtà dei fatti dal momento che la sua presunta volontà di fare pulizia in Vaticano, ma si concilia con l'essersi circondato di personaggi ampiamente compromessi a iniziare proprio da McCarrick, afficando loro incarichi ufficiali per poi cacciarli non appena venivano alla luce i loro scandali. E su tutti i costoro, come ben sanno quanti frequentano la Curia, già pesavano gravi sospetti se non addirittura prove circostanziase di colpevolezza. Perché purtroppo, cari amici e cari amici, quello che ci passa la stampa falsa come al solito è sempre questa immagine di Bergoglio che sta lì, che fa pulizia, che si scaglia contro i pedofi, mentre la realtà è questa. Solo quando escono fuori gli scandali vengono accusati coloro che hanno commesso delle nefandezze. E se questi sono amici di Bergoglio e fanno parte della sua cricca, Bergoglio li protegge in tutti i modi. Questa è la realtà, contrariamente a quello che scrivono i giornali. Viganolid è molto chiare. Continuo. A conferma della strumentalità e presenziosità dell'azione moralizzatrice bergogliana, vi sono casi di persone integerrime, del tutto innocenti, alle quali non è stata risparmiata l'infiammia del discredito, l'esposizione mediatica, l'agonia giudiziaria. Perdiamo solo al cardinal Pell, abbandonato a se stesso in un processo farsa all'istituto da un tribunale australiano, per il quale la Santa Sede si è astenuta da qualsiasi intervento che pure sarebbe stato doveroso. Eppure qui è penoso, perché questo cardinal Pell è stato fatto di accuse gravissime, pedofilia, cose terribili. Sapevano tutti che era innocente. E il Vaticano Bergoglio non ha preso posizione, perché il cardinal Pell non rientrava tra i suoi protetti. E' allucinante. Continuo. Bergoglio si è speso in difesa oltranza, ad esempio di Zanchetta, suo pupillo, giungendo addirittura ad accusare di falsa testimonianza le vittime del prelato, promosso poi a un incarico di alta responsabilità dell'Apsa appositamente creato per lui. Quindi, riassumendo, se i cardinali sono innocenti, ma non fanno parte della cricca di Bergoglio, vengono abbandonati a se stessi. Se i cardinali sono colpevoli, ma fanno parte della cricca di Bergoglio, vengono, come nel caso di Zanchetta, difesi, anzi qui dice Viganò, difesi ad oltranza. E cosa viscida quando si accusa di falsa testimonianza chi ha subito, poi, quelle schifezze. Continuo. E oggi Galantino e Zanchetta sono, de facto, gli amministratori dell'intero patrimonio della Santa Sede, ora anche del portafoglio della Segreteria di Stato. E che dire dei personaggi impresentabili come Bertone, Maradiaga, Parra, Paglia, sono scandali viventi. Lasciamo quindi da parte innocenti e colpevoli, accomunati da linciaggio indotto ad arte, da chi se ne voleva sbarazzare perché loro zelo per la causa di Santa Marta li aveva indotti a una pericolosa disinvoltura nella certezza dell'impunità. persone di specchiata onestà e di grande fede, come Ettore Gotti tedeschi o il Cardinal Pell, sono stati trattati peggio di un abusatore seriale come Theodore McCarrick. Questa è la realtà. I giornali dicono l'opposto, che sta facendo pulizia, sta facendo pulizia. No. Si scaglia contro gli innocenti se non sono dei suoi e protegge i colpevoli. Continuo. C'è da credere che il fastidio di avere dei collaboratori onesti e incorruttibili abbia determinato la loro cacciata. Così come la ricattabilità di collaboratori morali disonesti sia stata considerata una sorta di garanzia della loro fedeltà e del loro silenzio. Il tempo ha dimostrato che i galantuomini hanno subito con dignità l'ingiustizia senza gettare discredito sul Vaticano o sulla persona del Papa. Vi è da credere che sull'altro versante i corrotti e i viziosi ricorreranno a loro volta al ricatto nei confronti dei loro accusatori, come sempre hanno fatto i cortigiani senza onore. In questa vicenda recente la costante che si può rilevare è l'atteggiamento di Santa Marta. Sono convinto che dietro questo stilicidio di scandali che coinvolgono personalità di spicco della gerarchia e della curoria umana vi sia la, sentite bene, la volontà deliberata di demolire la Chiesa stessa, discreditarla dinanzi al mondo, di comprometterne l'autorità e l'autorevolezza davanti ai fedeli. Sono almeno 5-6 anni che dico questa cosa e all'inizio non mi credeva nessuno. C'è una deliberata volontà di sfasciare la Chiesa e screditarla, di demolirla. Rileggo le parole e vado avanti. Sono convinto che dietro questo stilicidio di scandali che coinvolgono personalità di spicco della gerarchia e curia romana vi sia la volontà deliberata di demolire la Chiesa stessa, screditarla davanti al mondo e di comprometterne l'autorità e l'autorevolezza davanti ai fedeli. L'operazione a cui stiamo assistendo da ormai sette infaustissimi anni è chiaramente finalizzata la distruzione dell'istituzione cattolica attraverso la perdita di credibilità, la disaffezione, il disgusto per le azioni e comportamenti indegni dei suoi membri. Un'operazione iniziata con gli scandali sessuali già sotto i pontificati precedenti ma che questa volta vede come protagonista e principale attore proprio colui che siede sul soglio e che con le proprie parole e opere è in grado di assestare i colpi più devastanti al papato e alla Chiesa. È quello che sta facendo questo farabutto. La demitizzazione del papato è auspicata dai progressisti consiste essenzialmente nella sua ridicolizzazione, nella sua profanazione, renderla appunto profana e non sacra. È inaudito e gravissimo che questa operazione avversiva sia compiuta da cui quel papato lo detiene e ne indossa goffamente le vesti. Analogamente la profanazione della Chiesa è condotta con un metodo scientifico dei vertici della Chiesa, che si rendono in visi al popolo di Dio, si fanno compatire dal mondo sotto lo sguardo compiaciuto dei media maestrime. Lo dicevo in un video precedente che non a caso che tutti i nemici della Chiesa sono quelli che lodano Bergoglio e tutti i fedeli sono in totale confusione. Questo modus operandi non è nuovo. Fu adottato con le stesse finalità alla vigilia della rivoluzione francese, rendere odiosa l'aristocrazia, se radicale il senso di responsabilità morale nei confronti dei sudditi, provocare scandali, fomentare ingiustizie verso i deboli, asservire la classe dominante agli interessi delle sette e delle logge. Questa fu la permessa creata d'arte dalla massoneria per suscitare il discredito della monarchia e legittimare le rivolte delle masse, predisposte da pochi sediziosi al soldo delle logge. La storia si ripete ma le persone sono ignoranti, non conoscono la storia e minimamente si rendono conto che si sta ripetendo la storia. E come prende nel segno il caro cardinal arcivescovo Il Ganò? Continuo. Oggi, dopo due secoli di teranea del pensiero rivoluzionario, la Chiesa è vittima dello stesso sistema adottato contro la monarchia. L'aristocrazia della Chiesa, corrotta e forse più dei nobili francesi, non comprende che questa ferita, la sua reputazione e autorità è la premessa necessaria alla ghigliottina, al massacro, alla furia dei ribelli e anche al terrore. E ci pensino bene i moderati che credono che un prossimo Papa, solo leggermente meno progressista rispetto a Bergoglio, possa sedare gli animi, salvare il papato, la Chiesa, perché l'odio teologico dei nemici di Dio, una volta eliminati i buoni pastori e allontanati i fedeli, non si fermerà mai. L'unico modo per uscire dalla crisi della Chiesa è una crisi di fede e morale. L'unico modo per uscire da tutto ciò è riconoscere la divazione della retta via, riprendere la strada del Calvario, della Croce, gli insegnamenti di Gesù Cristo. E quando i pastori torneranno a essere simili al sommo eterno sacerdote, solo allora saranno nuovamente conformati al divino modello di Cristo. Con Lui sapranno immolarsi per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Affinché essi vorranno piacere al mondo, sarà il mondo a compensarli con i suoi inganni e le menzogne, i suoi vizi più abbietti. La scelta, in fondo, è sempre radicale. La gloria eterna con Cristo o la dannazione eterna, lontano da Lui? Carlo Maria Viganò. E come vi ho detto è uno che non le manda a dire. Bene, cari amiche e cari amici, come sapete hanno riaperto il mio canale e iscrivetevi a questo canale di emergenza e al primo canale. Chi può, mi supporti con una piccola offerta. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.